Si è chiuso il Piemonte Visual Contest, ora la parola passa alla giuria che giudicherà i lavori migliori. Premiazione 6 marzo durante l'edizione 2014 di Hashtag PA140, appuntamento sul digitale e pubblica amministrazione, quest'anno dedicato alla cultura open. Ottimi risultati per il Piemonte Visual Contest. Sì, siamo molto felici dei risultati che abbiamo ottenuto, abbiamo ricevuto 93 progetti di visualizzazioni, per la maggior parte sono infografiche e abbiamo avuto molto successo anche dalle scuole di design e di creatività sia del Piemonte che anche della Lombardia.